Quest'anno ci sarà un Mazzara molto competitivo, c'è una squadra di giovani, una squadra che si sta allenando moltissimo, abbiamo bel mix tra giovani e grandi diciamo, ci sono sempre i vari di Genesio, Lombardo, Sami e qualche altro, mischiate a questi giovani, li chiamo giovani, che hanno tutti 21, 22, 23 anni, che faremo sicuramente del bene. E' una società proiettata per un futuro glorioso, mi dicono qua i miei dirigenti, fra due o tre anni porteranno il Mazzara dove merita, quest'anno sarà un campionato che secondo me ci divertiremo. L'obiettivo quest'anno è innanzitutto cercare di arrivare fra le prime cinque, andare nei play-off, poi se ci riusciamo bene, se non ci riusciamo pazienza, secondo me lo faremo. Quest'anno abbiamo la nostra consorella mazzarese, gli auguro tanta fortuna ma io non rispondo mai degli altri, rispondo solo del Mazzara. Io mi auguro che il Mazzara vada dove deve andare, il resto non mi interessa niente. Mazzara ha un grande entusiasmo, ha fatto tanti giovani che diranno la sua in questo campionato. Faremo un campionato di transizione perché è sottoscritto da quando finito il campionato, ho lavorato sull'assetto societario, i miei sacrifici sono andati a buon fine. Abbiamo una società importante, lo diremo ora in convenza stampa, perché ho voluto lavorare sulla solidità di una società che possa avere domani un grande futuro. Ci sono i grossi presupposti, abbiamo un grande carisma, quello della grande umiltà, rispettiamo tutti, non temiamo nessuno e chiedo ai tifosi di pazientare e di non mancare mai l'apporto, che è la cosa più fondamentale che ci sia, perché sicuramente il tempo è la migliore medicina per far capire realmente che questa società vuole fare cose sul serio. Ho fatto gli auguri alla consorella perché, lo dico di nuovo alla tua emittente, da parte mia non ci sarà mai una critica distruttiva nei confronti della condizione mazzarese, anche perché dall'altra parte ho diversi amici che lavorano in questa società. Il calcio per me, ho detto sempre, nella mia vita è sorriso, eleganza, ma soprattutto sportività. È sottoscritto un uomo di questi, quindi sicuramente sarà un bel derby fatto da due compagine che diranno la sua in questo campionato. Io ripeto nuovamente, noi quest'anno faremo un grande campionato di transizione per programmare il futuro, che il futuro lo vediamo positivo perché questa società vuole fare le cose in grande, ma soprattutto per avere una stabilità societaria che ci possa consentire un domani di avere i parcoscenici diversi da quello dottore. Quindi Mazzara ha lavorato soprattutto, ripeto, sull'assetto societario. In Mazzara oggi si può vantare di avere veramente alle spalle diversi soci che vogliono fare del bene e vogliono investire sul Mazzara Calcio, che questa è la cosa più importante che oggi diremmo alla Comienza Stampa.